Soddisfazione e felicità, quello sicuramente. La trattativa non è stata così difficile come è sembrata dall'esterno. C'era la volontà sicuramente da parte mia e credo anche da parte della società perché l'ha dimostrato di continuare questo percorso insieme. Io sono contentissimo e entusiasta e non vedo l'ora di riniziare. L'esperienza, un anno in più di esperienza che fa bene a tutti, fa bene a noi giocatori, fa bene alla società. Cercheremo di commettere meno errori possibili come magari c'è stato in qualche periodo della stagione scorsa. Però è finito il momento di parlare di come è finita la stagione, è finito il momento di dire che il Cesena ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno. È il momento di stringerci e di riniziare, di iniziare un nuovo percorso non da zero, con delle ottime basi e con la voglia di migliorarci sempre di più, di fare il meglio possibile, questo si è detto. Il meglio possibile è ovvio che si spera che sia vincere tutte le partite. Cercheremo di farlo. Sicuramente quello del lavoro, io l'ho sempre detto, il lavoro settimanale, il sacrificio per il compagno, in questa categoria fanno la differenza. Fanno la differenza in tutte le categorie, in Serecci soprattutto. Limare gli errori, curare il dettaglio e soprattutto si deve creare un gruppo uniforme, un blocco unico che ti aiuterà a superare le difficoltà che ovviamente per tutte le squadre durante la stagione ci saranno. Periodi difficili ci saranno e solo una squadra, un gruppo unito ne viene fuori. L'obiettivo c'è sempre, l'obiettivo come ti ho detto prima è fare sempre il massimo possibile di quello che si può fare, sia a livello personale, parlando per me, che poi di squadra.